Bene in trasferta, male tra le muramiche, la Florigelandria di Danilo Danissi incassa la seconda sconfitta consecutiva casalinga per mano della Diaz Biceglie che sul parquet del Palacolombo di Ruvo di Puglia si impone con il punteggio di 5-3 dopo un match tiratissimo. Inizio di gara di marca biscelliese al nono e già a vantaggio bianco-rosso. Tortora serve sulla destra De Cillis che con un tocco morbido scavalca Camporeale in uscita. L'Andria non sta a guardare e pareggia i conti con un potente diagonale di somma che trafigge l'incolpevole Belsito. Al ventitraesimo però è nuovo vantaggio di Diaz con Cagianelli che da banda sinistra infila Camporeale per il 2-1 dei Bicegliesi. Nella ripresa la Florigel trova l'immediato pari con un tapin di Nicola Fiorentino ma tre minuti più tardi. È nuovo sorpasso di Diaz con Palermo che sfrutta l'assist al bacio di De Cillis sul secondo palo. La squadra di Danisi soffre il pressing dei Bicegliesi che trovano l'allungo e la rete del 4-2 con un tiro sul palo più lontano di Cazzanelli. Prova a riaprire i giochi somma che sfrutta una corta respinta della difesa su calcio di punizione ma ad un minuto dalla fine la rete in contropiede di Cagianelli chiude definitivamente i giochi in favore della compagine di Mister Di Chiano. Uno stop che lascia la Florigelandria a 14 punti in classifica e sabato prossimo sarà difficile trasferta sul campo del Dream Team Palo del Colle.